Wabalaba dub dub e bentornati su No Mamamazzo Continuiamo a parlare di Dilan Dog Oggi parliamo del numero 416 dal titolo Il Detenuto Prima di cominciare se non l'avete ancora fatto Vi invito a iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace a questo video E anche a tutti gli altri delle playlist che più vi aggradano Di condividere il video con tutte le persone che amano questa testata Di commentare qui sotto Con quello che viene parso di questo numero E dell'andamento di Dilan Dog in generale Vi informo che da questo mese in poi Per diversi mesi, si spera Cominciano anche le live dedicate all'indagatore dell'incob Quindi oltre a questo video Questa sera alle 21 sempre sul mio canale YouTube Ci sarà una live Ci sarà sempre con me Luca DJ Ci dovrebbe essere anche Kuro del canale di Kuro E parleremo in generale di Dilan Dog Di questo numero, dell'old boy Dell'ultimo Colorfest Facciamo una chiacchierata un po' così libera Ma adesso ci concentriamo su questo numero in particolare Il numero 416 dal titolo Il Detenuto Devo dire che non mi aspettavo che trattasse temi così delicati Così seri Se notate anche l'intro Non ho fatto assolutamente battute di nessun tipo Perché è davvero un numero bello tosto Vorrei partire con ordine Dato che vorrei parlare un po' di tutto il numero Partiamo dalla copertina Devo dire che se dovessi scegliere un volume dalla copertina Questo è il Dilan Dog che comprerei di meno Dove anche lo stesso Cavenago è stato sfruttato pochissimo Ma questo perché? Perché se ci fate caso quando andate in edicola Dovreste notare che tutti gli albi di questo mese Hanno una copertina con due strisce Per sancire gli 80 anni della Sergio Bonelli Editore Quindi in tutti i fumetti di questo tipo Dovreste trovare anche la moneta commemorativa In questo numero c'era quella con Dilan Dog Nel prossimo Dilan Dog ci sarà quella con Graucio Poi sono anche le uniche due che a me interessano Giustamente leggendo queste testate E quindi hanno voluto dare una sorta di uniformità a tutte le testate Quindi tutte le testate hanno due strisce orizzontali Sopra e sotto Con solo il protagonista in mezzo In un momento iconico Per quanto riguarda Dilan Dog sta caricando la sua bodeo Quindi ecco è una copertina che non c'entra con la storia all'interno C'entra più che altro con la commemorazione degli 80 anni Bonelli Un peccato che questo numero abbia appunto un gadget in omaggio Perché essendo tutto sigillato Voi non potete sfogliare quello che c'è all'interno Però ci penso io e ci penso non spero anche gli altri miei colleghi Vi faccio vedere una sfogliata veloce Poi come sempre ci sarà il video dell'Instagram TV In cui vi farò vedere meglio Queste sono le tavole che sfogliereste Se il numero non fosse sigillato Ci ho tenuto a farvi annusare un pochino anche i disegni Perché questa è una delle classiche storie In cui non si può parlare della storia E dei disegni in maniera scissa In maniera divisa È una di quelle storie dove La narrazione per storia E per tavole, per disegni Sono davvero intrecciate Sono un tutt'uno La storia è di Mauro Uzeo Mentre i disegni sono di Arturo Lauria Che entrambi sono stati elogiati dall'editoriale di Recchioni Da quanto ho capito Pare che Lauria abbia lavorato E rilavorato più volte su questo numero In modo da ricreare uno stile nuovo Per quanto riguarda il suo stesso stile di disegno E che sia il più attinente possibile Alla storia che voleva narrare con le sue tavole Quindi un numero che è stato partorito molto Con molta fatica Con molto rimaneggiamento Non rimaneggiamento in senso negativo In senso di perfezionamento Dello stile di queste tavole In questo numero il nero la fa da padrone È un numero davvero buio Buissimo Ma sono molto contento che sia incastonato In una griglia classica E che non ci siano per esempio I contorni neri Perché in questo caso sarebbe stato troppo E avrebbe svalutato un pochino All'interno delle tavole In alcuni color fest ho elogiato La contornazione nera Qua invece è adattissima in questo modo È una griglia classica Ma all'interno Non manca Non manca uno stile rivoluzionario Per la testata regolare E infatti la mia paura È che possa far storcere il naso Allo zoccolo duro Alla vecchia guardia di Dylan Dog Che vogliono Il Dylan Dog di una volta Ma lo vogliono anche nei disegni E spero tanto Che non si fermino a questo Perché ci sono dei disegni rivoluzionari Per una serie regolare O l'old boy E sono più adatti al color fest Paradossalmente Pur essendo in bianco e nero Spero che appunto Lo zoccolo duro I duri e puri Che vogliono il Dylan Dog degli anni 90 Non si fermino A questi disegni così particolari Perché questa è forse Una di quelle storie Che più Mi ha fatto sentire Il Dylan Dog Dei fasti Il Dylan Dog Che parla Dell'attualità Il Dylan Dog Che prende A piene mani Dai problemi Che ci circondano E ci fa una storia horror Nei disegni e negli intenti Questa storia È rivoluzionaria È ribelle Si vede che vuole far sentire La voce Di quelli che non hanno voce Che fondamentalmente è Quello per cui Dylan Dog È diventato Dylan Dog Quello che Dylan Dog Tuttora dovrebbe essere Ma spesso Non riesce ad essere Con questo gioco Di chiaroscuri Lauria Si diverte a passare Dal thriller Claustrofobico All'inizio Nella prima metà del numero Per poi passare Lentamente All'horror Vero e proprio Ma anche le cose Più surreali Che ci sono All'interno Ricordano dolorosamente Dei fatti Di cronaca Reali Che superano La fantasia In quanto a orrore Ora inizio a fare Spoiler In un certo senso Non raccontandovi La storia Ma raccontandovi Quello che nella storia A me Ha fatto Riaffiorare Magari sono solo Mie sensazioni Magari voi avete Percepito Altro Da questa storia Se avete percepito Qualcosa di diverso O qualcosa di simile A quello che ho percepito Io Scrivetelo qua sotto Nei commenti Che è bello vedere Cosa porta Un fumetto del genere A tante persone diverse Il pretesto iniziale È che Dylan Venga Imprigionato Accusato Portato in gattabuia Per un malinteso Il pretesto è questo Per far vedere Fondamentalmente È la brutalità Di una certa branca Della polizia Di una certa branca Di chi ha il potere Il potere esecutivo E lo adopera In maniera Quasi robotica Nel senso Senza avere il lato umano Lo adopera In modo Diretto Senza scusanti Senza attenuanti E questo succede Quando Non conosci La vittima E succede anche Quando molto spesso Sono I poliziotti Per primi Ad avere paura A non avere Un rapporto umano Con Con quello che Con la persona Che hanno davanti E può capitare In due casi Quando il poliziotto È inesperto E quindi La paura Di quello che potrebbe Succedere Del fatto che la vittima Si possa ritorcere Contro Porta Il poliziotto Quello che detiene La legge A applicarle In maniera violenta Oppure Può succedere Quando il poliziotto Invece è molto Esperto Nel senso che Ne ha passate tanti Ha visto un sacco Di cose negative Sulla sua pelle E di conseguenza Reagisce Attaccando Prima di fare domande Ci tengo a dirlo Per umanizzare Anche la parte Che in questo caso Rappresenta Il villain Del fumetto Non perché Non perché ci tenga A difendere Particolarmente Fatti Dove i poliziotti Sono stati davvero Degli stronzi Ma è giusto Per dare Un senso di umanità Anche laddove Qui invece L'umanità non c'è Qua si vedono Proprio degli automi Veri e propri Sono quasi Delle macchine Che imprigionano Dylan Con la sola differenza Che le macchine Non provano Gioia Nel picchiare Quello Che potrebbe essere Una vittima Quello che potrebbe essere È un rifiuto Della società Agli occhi Di un integerrimo Corpo di polizia La differenza È che appunto Molti poliziotti Che fanno Questo mestiere Non con la Passione Di proteggere Servire Diciamo Il cittadino Ma con la passione Di malmenare Il criminale Indipendentemente Dal crimine che sia È il fatto Che ci provano Gusto Fondamentalmente Quindi Applicano la legge In modo ferreo Dove vogliono loro Ma Non Per un senso Del dovere Ma Perché ci provano Gusto A malmenare I poveri Disgraziati Che spesso Commettono il crimine Come in questo caso Di vagabondaggio C'era un barbone Fuori da un locale Che la ragazza di Dylan Ha difeso Fateci caso La difesa La ragazza di Dylan Non Dylan Perché Dylan È il solito dandy Che Si caga addosso Vuole scappare Però quando gli toccano Comunque La ragazza Con cui stava Uscendo Quella sera Lì interviene anche lui E viene arrestato Perché Per un equivoco Ripeto Nel numero Non aveva i documenti con sé In questo numero Io ci ho visto tante cose Ci ho visto una chiara posizione Sui fatti di cronaca Che hanno coinvolto Stefano Cucchi Nel pestaggio Da parte dei carabinieri Fatto di cronaca Che mi è saltato la mente Perché è quello più Scottante Più palese Degli ultimi anni Ma non è l'unico Purtroppo E Non è l'unico Non solo in Italia Ma anche in tutto il mondo Tutto il passaggio In cui Le voci Al di fuori della cella In cui è stato messo Dylan Dog Parlano della pelle Che il suo crimine È la pelle Che lui è solo pelle Agli occhi Di chi lo guarda Non è i suoi sogni Non è i suoi desideri Ma è solo il suo involucro Mi ha fatto pensare anche Al discorso razziale Al discorso del Black Lives Matter Al fatto che Molti poliziotti Palesemente negli Stati Uniti Qua in Italia Non si è mai sentito Nulla di eclatante Oddio Mai sentito No Si è sentito un paio di volte Anche qua in Italia Ma In Italia A parer mio C'è più un razzismo culturale Che non un razzismo Nel senso letterale Nel senso di pelle Del termine C'è anche quello Ma è sovrastato Dal razzismo culturale Quindi una cultura Diversa dalla mia Unita Sì anche Ha una pelle diversa dalla mia Ma non per forza Perché spesso In Italia C'è un razzismo Verso le persone dell'est Che sono Più bianche di noi E quindi Diciamo In Italia Non c'è Un grosso Razzismo Verso una persona Che parla la tua stessa lingua Che ha la tua stessa cultura Da secoli Ma ha un'altra pelle In America C'è questa cosa Cioè ci sono Gli afroamericani Che sono lì Da quando li hanno portati A fare gli schiavi Centinaia di anni fa Quindi sono americani A tutti gli effetti Ma tuttora C'è gente Che prova razzismo Ci sono poliziotti Che provano razzismo Per queste persone Solo Perché sono Di colore Quando Dylan Quando a Dylan Viene tolta la pelle Io ho notato Proprio un riferimento A questa cosa Al fatto che Le persone Che hanno Il potere esecutivo Il poliziotto Di turno Vede il criminale Vede il criminale In quanto tale Solo perché Vede la sua pelle Un altro tema Molto molto profondo È quello Del fine pena mai Ovvero del fatto Che comunque Qualunque criminale Anche Che sia stato Incolpato Per errore Come nel caso Di Dylan Dogg Ma anche Se ci sia stata Una colpa Perché in una tavola Lo dice proprio Che ci sia colpa O meno Non esiste Il fatto Che una persona Venga imprigionata Non con lo scopo Di vedere La luce Alla fine del tunnel Cioè quindi Di vedere Una fine Della sua pena Ma con lo scopo Di buttare via La chiave Non è giusto Che il rinchiudere Una persona In una cella Non sia finalizzato A togliergli Del tutto La speranza A livello grafico Mi ha anche ricordato Una certa scena Di viper vendetta Quando appunto Eve viene imprigionata Da viper Rinforzarla Quando è in questa cella Dove sente solo Voci esterne E non vede nessuno Il discorso del fine Pena mai È trattato Dal punto di vista Di una vittima Innocente O comunque Di una vittima Che ha commesso Un reato Relativamente Leggero E quindi Noi quasi Ci medesimiamo In questo Dylan Dog Che tiene a Sostenere Il fatto che I prigionieri Non dovrebbero stare In carcere A vita Tra l'altro C'è un fantastico Omaggio A uno dei miei Cantanti preferiti Che è Caparezza E cita Il suo Ultimo album Quindi non Quello uscito Appena adesso Ma quello Di qualche anno fa Che è Prisoner 709 Dove vediamo Proprio La folta Chioma Di Caparezza E nel brano Omonimo Dove però Non parla Proprio di fine Appena mai Parla di un'altra Cosa Però Caparezza È un cantante Molto impegnato Che spesso Che spesso Tratta Questi temi Quindi Io comunque Vi metto La canzone Qua sotto In descrizione Ma in questo caso È più Un omaggio Grafico Alla Alla Sua Al suo Brano musicale Non tanto Per assonanza Di temi Diciamo che In Prisoner 709 Caparezza fa quasi Un discorso opposto Ovvero usa il termine Fine pena mai Per parlare di un argomento Relativamente leggero Il fatto Del mercato Della musica Che è Dal punto di vista Della vendita Dei cd Era Era Tuttora Fermo Morto Fermo Sugli scaffali Fino alla fine Dei tempi Scusate la digressione Ci tenevo a dirlo Prima del finale Dylan Ci tiene a sostenere Il fatto che Il fine pena mai È comunque Sempre una pena Ingiusta Perché il prigioniero Dovrebbe essere Riabilitato Dovrebbe stare in carcere Per poter essere Riabilitato A vivere nella società Ed è una cosa Con cui sono Parzialmente d'accordo Ma la riabilitazione Deve essere anche Molto psicologica Quindi ci deve essere Un aiuto psicologico Molto profondo Che credo proprio Che non ci sia Prima di far uscire Qualcuno Soprattutto se è commesso Un reato grave Sui reati leggeri Posso anche essere D'accordo con questa cosa Però di base Con i reati leggeri Non c'è il fine Pena mai Quando Dylan Sta Finalmente Per uscire Da questa cella Per uscire Da questa gatta buia In questo numero Che si scoprirà Essere parte Di Un numero doppio Quindi questo numero Finirà il mese Prossimo Con Ve lo faccio vedere L'ora del giudizio In cui appunto Dylan viene Verrà appunto Giudicato Per il suo crimine Scopriamo che in realtà Non esce dalla cella Perché è libero Ma esce dalla cella Perché block Suo padre Lo vuole interrogare E apre lo spiraglio E apre lo spiraglio Su quello che probabilmente Potrebbe essere il tema Del prossimo numero Su un crimine Molto molto grave E qua ti viene da pensare Forse Il fine Pena mai A volte È giustificato Dylan dog Viene accusato Da block Dal soprintendente Nonché da suo padre Quindi qualcuno Che di base Dovrebbe Contro ogni ragionevole Dubbio Fidarsi del proprio figlio Anche perché Conoscendo Dylan dog Si sa che non è Quel tipo di uomo Ma viene accusato Di aver ucciso La sua ragazza Questa Hillary Che c'era All'inizio Del Del numero Questa cosa Ti fa pensare subito Al femminicidio E quindi Ti fa pensare subito Anche al fatto Ok Forse il fine Pena mai È sbagliato Ma è davvero sbagliato Quando Si fanno Delitti di questo tipo Quando Per un Impulso Di follia Dopo anni Di Una vita Di Di Violenze Spesso appunto Nelle mura domestiche O spesso da parte Di stalker Malati Che Vedono le proprie vittime Le vogliono avere In tutti i modi Vive o morte Quindi Quando c'è di mezzo Questo tipo di Bramosia Che porta a uccidere Una donna Perché donna? Perché è oggetto Del desiderio Della persona Che l'ammazza È davvero sbagliato Il fine Pena mai Questo è un esempio Di un crimine grave Molto attuale Ce ne sono mille altri Che magari Si sentono meno Sui giornali Perché fortunatamente Avvengono Meno spesso Ma sono comunque Altrettanto gravi Violenze Verso Anche i bambini Quindi Ok Rinchiudere in carcere Una persona Che ha commesso Un delitto Molto grave Per Riabilitarla Ma Fino a un certo punto Perché se La riabilitazione Non porta a nulla Se la speranza Non c'è Se una persona È fondamentalmente Disturbata Da cose che si Di cui è stata Vittima lui stesso Probabilmente Quando era in fase Di formazione Se non è più Recuperabile Non si può più Integrare Nella società Proprio perché Nonostante sia Lui stesso Magari una vittima Sia stata una vittima Della società Attualmente È un carnefice E attualmente È più importante Che Non traumatizzi Non crei Altre vittime Quindi Una persona Che è Pericolosa Per se stesso Per la propria anima Ma fisicamente Per la società Si dà priorità Alle persone Che non hanno fatto niente Ovviamente Si dà priorità Alle persone Che rischiano Di essere vittime Di una Di un criminale Che portato A un'eventuale Riabilitazione Non riuscita del tutto E fatto uscire Di galera Rischia di ricommettere Lo stesso reato So che sono temi Molto Molto Pesanti Molto Molto importanti Sono anche temi Di cui io Non ho una cultura Approfondita Proprio perché Francamente Per come la vedo io È pieno il web Ma soprattutto È piena la tv Di opinionisti Che dicono la loro Solo per dare aria Alla bocca E che Non dovrebbero stare In televisione Cioè dovrebbero stare Zitti E lasciare semplicemente Parlare Le persone Che studiano legge Quindi gli avvocati Magistrati E di certo Non in televisione Per far alzare Gli ascolti Per farvi Dare quella sensazione Di Allo guardo Perché La tua Che è quello che dice Dylan all'inizio Tra l'altro Lo guardo Perché Quello che succede A te Di negativo Fa stare meglio Me È una cosa Orribile Che io Provando empatia Non togliero È anche un motivo Per cui io non guardo I film horror Perché a differenza Di quello che dice Dylan Io guardo i film horror Perché vedo la gente Che viene trucidata E dico La mia vita Non è tanto male No Io guardo Se guardo un film horror E vedo una persona Che viene trucidata Io sto male Fisicamente E quindi sono felice Di non provare Questo tipo Di sensazione Guardando Un film horror E sono felice Di non provare Questo tipo di sensazione Guardando Guardando un programma Sensazionalistico Dove sciacallano Le notizie di cronaca Poveri disgraziati Che vengono ammazzati Torturati Uccisi Per fare ascolti È una cosa Che a me fa schifo Quindi io Lo so Che non ho Nessun titolo Per parlare Di queste cose Ma è bello Che questo fumetto Sollevi un po' Le coscienze Per farcene Parlare Per farcene pensare Perché se io Non ne parlo Non ne voglio approfondire Perché non me ne ritengo All'altezza Ma ho un occhio Di riguardo Verso Certi argomenti C'è anche gente Che non ne sa proprio nulla Ed è giusto Che magari venga Un po' svegliata Dai mezzi Non di informazione Dai mezzi di narrativa Come Questo fumetto Anche perché Molta gente Specie ritorno Al discorso Dello zoccolo duro Di Dylan Dog La gente che Negli anni 90 Si immedesimava In Dylan Dog Perché parlava Dei deboli Parlava Dei mostri Della società Che non sono i veri mostri Non sono i freaks Ma sono quelli Che comandano Quelli al potere Blablabla Molto probabilmente Adesso sono quelli Che se non leggono Un fumetto del genere O anche se lo leggono Danno ragione Ai poliziotti Quindi non è Dylan Dog Che è cambiato Siete voi Che vi siete L'ho già detto In altri In altri numeri Di Dylan Dog Lo zoccolo duro Dei fan Di Dylan Dog Si sentiva Parte Della famiglia Di Dylan Negli anni 90 Perché si sentiva Lui stesso La vittima Ora che non è più vittima Che la vittima Sono Gli immigrati Ora che la vittima Sono Delle persone Malmenate Dalla polizia Il lettore medio Di Dylan Dog Dice Ah Dylan Dog È diventato sinistroide Perché parla di queste cose No Dylan Dog Ha sempre parlato Delle vittime Se voi non siete più vittime Vuol dire che fortunatamente La vita vi va meglio O forse Non vi è mai andata così male E se eravate solo Dei vittimisti Quando leggevate Dylan Dog Adesso che Dylan Dog È un po' più chiaro E parla delle vere vittime Non vi piace Dylan Dog Perché non parla più di voi Spero di sbagliarmi Spero che questo fumetto Piaccia a tutti Piaccia alla vecchia guardia Di Dylan Dog Piaccia ai nuovi lettori È un fumetto Un po' tosto Da leggere Come primo fumetto Da edicola Ma potrebbe Essere degno Di essere nominato Anche nelle testate giornalistiche Come era Nei fasti di un tempo Io vi ringrazio Per avermi seguito fino a qui Lo so che è un video lunghissimo Ma non posso Spendere Pochissime parole Per Argomenti del genere Gli argomenti Non credo Vengano toccati Nella live Di stasera Perché ci occuperemo Dal punto di vista Editoriale Di Dylan Dog Comunque Non farei un approfondimento Proprio per questo motivo Però Potrebbe Esserci un approfondimento In un'altra sede In cui si parlano Di argomenti Un po' più seri Io Come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito fino a qui Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto Vi dico Arrivederci Alla live di stasera O se non potete Al prossimo video Alla live di stasera Alla live di stasera Alla live di stasera